Io sto difendendo la mia famiglia che sta lì dietro, quindi più di questo non so che dire. Abbiamo ovviamente contestato la notifica di abbattimento e stiamo aspettando, si pensa, almeno nelle prossime 24 ore potremmo avere una risposta da parte del TAR del Lazio. Si parla di un rischio di peste suina? Assolutamente, ma non qui dentro. Ci sono degli animali che non sono a scopo alimentare, che non entreranno mai a far parte della filiera della carne e quindi del commercio della carne. Non verranno mai movimentati da questo posto e questo posto è stato messo in biosicurezza affinché non ci sia un contagio dall'interno verso l'esterno. Dal punto di vista sanitario, siccome non viene trasmesso direttamente all'uomo, non capisco logicamente come si possa prendere questo caso come un pretesto di contagio per la peste suina. Chiunque voglia aiutare la causa e prendersene i meriti è veramente ben accetto.